Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta alle arance rovesciata. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Ingredienti sono farina di tipo 00, zucchero, succo d'arancia, uova, olio di semi di girasole, un'arancia tagliata a fette, zucchero di canna e lievito per dolci. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando all'interno del boccale la farfalla, mettiamo lo zucchero, le uova ed azioniamo il bimbi per 8 minuti a velocità 4. Togliamo la farfalla dal boccale, aggiungiamo la farina, il succo d'arancia e l'olio. Azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5. Aggiungiamo il lievito ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 5. Adesso componiamo la torta. Abbiamo rivestito con carta da forno una tortiera del diametro di 24 cm e abbiamo imburrato i laterali. Mettiamo un po' di zucchero di canna sul fondo. Mettiamo le arance. Versiamo un po' di succo d'arancia e cospreggiamo con il resto dello zucchero di canna. Adesso verseremo l'impasto nella tortiera. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40-45 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. Raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Torta rovesciata alle arance. Grazie, alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!